Fu uno dei tanti militari italiani che si rifiutarono di collaborare con i nazisti dopo l'8 settembre. Per questo motivo patì indicibili sofferenze nei campi di concentramento, prima di fuggire dopo oltre un anno e mezzo di prigionie e tornare in Italia a piedi o con mezzi di fortuna. Ad Angelo Ricci, morto il 17 agosto del 97 a 86 anni, la sua foggia ha dedicato un'area verde recuperata dopo un lungo abbandono. Il parco giochi via De Petra porta ora il nome del militare deportato nel campo di concentramento nazista di Dragovizza durante la Seconda Guerra Mondiale. Una cerimonia carica di emozione a cui hanno preso parte i sei figli, cinque femmine e un maschio di Angelo Ricci. Attraverso questa manifestazione sarà un ricordo magari per il futuro, tutta la generazione futura, tant'è che oggi partecipa alla terza, anzi la quarta generazione di Angelo Ricci. A Ricci e valorosi militari italiani è stata assegnata la medaglia d'onore della Repubblica. Il riconoscimento purtroppo fu assegnato postumo dopo la morte del militare foggiano. Stesso amaro destino è toccato a tanti suoi commilitoni. Angelo Ricci fu richiamato alle armi all'ingresso dell'Italia in guerra, inquadrato nel 129esimo reggimento della divisione Perugia, impegnato nelle operazioni militari sul confine greco-albanese. Catturato dai tedeschi il 14 settembre del 43 e successivamente internato in un campo di concentramento, fece ritorno in Italia alla fine della Seconda Guerra assieme a tanti altri soldati, eroi silenziosi e dimenticati per decenni.